amici e amiche carissime bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi la madonna e gli iscritti di maria valtorta che è giunta alla puntata adesso vi dico subito numero 35 ecco formo gli amici che speriamo che sia partita la diretta instagram e questa sera pare che avesse dei problemi per cui vedo partita la diretta facebook si adesso è finalmente partita anche la diretta instagram che c'erano dei problemi di connessione pazienza e un attimo solo che scrivo un attimo il titolo ok scusate bene ci aspetto un altro bellissimo viaggio accompagnati dalla nostra cara connazionale siamo dentro la sezione dedicata abbiamo iniziato la volta scorsa alla corredenzione nell'antico e nel nuovo testamento ci siamo fermati dopo aver cominciato ad affrontare i fondamenti neotestamentari della corredenzione con il brano dell'annunciazione ora dobbiamo oggi leggere una lunga nota riportata dalla valtorta in due punti distinti dell'evangelo dove vengono notate appunto alcune cose inerenti il nostro teme io comincio subito con la lettura per evitare di fare preamboli troppo lunghi e poi non affrontare tematiche importanti la valtorta svolge più ampiamente il nostro tema in una lunga nota riportata in parte nell'evangelo 242.6 e 612.7 dice sempre per la pienezza dei doni divini conseguenza della pienezza di grazia poiché i doni dello spirito santo tra i quali la sapienza e la scienza accompagnano sempre la grazia Maria conobbe anticipatamente o contemporaneamente e intellettivamente tutta la complessa sofferenza del figlio suo sulla sua anima rimmacolata piena della luce di dio si proiettò sempre l'ombra dolorosa della croce e di tutte le lotte e ostacoli che avrebbero preceduto la passione e afflitto il suo Gesù dall'inizio della sua missione di madre del figlio di dio ella fu sola col solo col grande incompreso con la i maiuscola lui e lei soli davanti alla vastità oceanica della loro missione d'amore e dell'odio del mondo ubbidienti entrambi l'uno sino alla morte di croce l'altra sino alla rinuncia e morte di ogni diritto materno procedettero uniti sulla via segnata dagli imperscrutabili voleri di dio col passo fermo degli eroi e dei santi che oltre la sprezza della via patiscono della incomprensione del mondo c'è una nota a un certo punto che la leggo che della rinuncia di maria e suoi diritti materni sul figlio per la nostra redenzione hanno parlato esplicitamente due pontifici ossia benedetto quindicesimo da non confondere con benedetto sedicesimo evidentemente che quando lui è diventato papa roschini era già un bel pezzo che era passato a miglior vita benedetto quindicesimo una lettera apostolica inter sodalicia del 1918 e pio dodicesimo l'elencifica mistici corporis del 1943 faccio una prima pausa di meditazione allora qui ci viene detto una cosa molto importante nel senso che maria conosceva per rivelazione evidentemente divina o anticipatamente o contemporaneamente tutto il mistero della sofferenza del figlio suo quello che Gesù pativa quello che Gesù soffriva era a giorno nella sua anima e evidentemente nella sua santissima anima provocava delle risonanze a livello di sofferenza immense per noi non immaginabili a me tocca molto questa espressione perché questa è un'espressione ed è anche una condizione che chi desidera veramente vivere una vita santa chi desidera vivere di volontà divina come sono vissuti Gesù e Maria deve metterla in conto almeno in certi momenti della propria esistenza ella fu sola col solo col grande incompreso c'è nella nostra vita cristiana insieme all'esperienza bellissima della vicinanza di Dio dell'intimità con Lui eccetera in alcuni momenti proprio la la netta coscienza di essere soli umanamente soli col solo e anche di essere non soltanto incompresi dagli altri ma anche incomprensibili nel senso che se anche gli altri volessero comprendere non potrebbero comprendere perché ciò che è di più profondo di più intimo e soprattutto di molto doloroso che accade dentro di noi soprattutto quel doloroso che è legato al nostro vivere e stare o tentare di vivere e stare nella divina amicizia non è comprensibile agli occhi delle altre persone e come Maria e come Gesù noi loro indegni discepoli dobbiamo preventivamente considerare queste farcene carico ci saranno momenti della nostra vita ci saranno situazioni di dolore di prove dove ci sentiremo soli col solo come Maria lui e lei soli davanti alla vastità oceanica della loro missione d'amore e dell'odio del mondo non dobbiamo aspettarci l'odio da parte del mondo Gesù l'ha detto nel Vangelo se il mondo vi odia sappiate che prima di voi ha odiato me se foste del mondo il mondo amerebbe ciò che vuoi ma siccome non siete del mondo sappiate che il mondo vi odi è chiaro che Dio non vorrebbe l'odio da parte di nessuno il fondatore dell'odio non le attribuiamo la parola creatore perché neanche per le cose cattive gli si deve attribuire ma il fondatore dell'odio è il diavolo ma certamente chi segue fedelmente Gesù è suo amico avrà la sua razione di odio da parte del mondo e se non ce l'ha in nessuna forma in nessun caso deve avere qualche dubbio che stia realmente seguendo il nostro Signore procedettero uniti sulla via segnata dagli imperscrutabili voleri di Dio col passo fermo degli eroi e dei santi che oltre la sprezza della via patiscono della incomprensione del mondo quindi vita austera e vita da incompresi attenzione non da quelli depressi che pensano sempre che il mondo non li capisce eccetera eccetera questi non sono diciamo attestati di santità questi sono attestati di debolezza psicologica o di difficoltà che ci portiamo dietro che non hanno niente a che fare con questi dolori diciamo così ecco forti ecco divini questa però è una dimensione propria della vita cristiana causata dal fatto che nel mondo purtroppo c'è un principe cattivo e potente che vuole fare da padrone che in parte lo fa da padrone perché purtroppo gli uomini gli danno carta bianca per farlo e questo quando vede qualcuno che è amico del suo nemico diventa una belva e sappiamo che la divina volontà in parte in parte permette di fare la guerra come fu per Gesù e Maria anche agli eletti e anche ai santi questa è una dimensione che ci deve essere presente insomma proseguo la lettura e la madre fu da sola mondo per il figlio suo tanto da sola donò assistenza di conforti e cure alla sua creatura di cui lei sola intuiva tutta la segreta e complenza sofferenza che fece della terrena vita del Cristo un lungo gezzemani e una lunga passione culminata nel vero gezzemani e nella grande passione io quando leggo queste cose oggi col senno di poi è verissimo che tutta la vita di Gesù è stata una lunga passione e un lungo gezzemani ecco io questa cosa personalmente ecco perché questo lo dico all'ode di padre Gabriele Maria Roschini questa cosa l'ho cominciata a percepire a pensare quando l'ho letta negli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta dire Gesù di se stesso e spiegare anche in che senso questo era vero vedete come padre Gabriele Maria Roschini ne era convintissimo non so se conoscesse anche questi scritti però capite come poi lo spirito santo la mente soffia dove vuole no e quando c'è un'anima buona un'anima bella lo spirito santo gli parla indubbiamente padre Gabriele Maria Roschini oltre che un grande mariologo era un'anima bella un cosiddetto santuomo lo chiameremo poi lo chiameremo noi oggi insomma no dalla cuna alla croce fu tutta per Gesù e Gesù tutto ebbe da Maria pacifica più ancora serena quasi ignorasse il futuro ebbe sempre per Gesù il sorriso e la parola che incuravano l'afflitto maestro e consolarono il divino martire simile ad un mare che c'era sotto l'azzurro ridente delle sue placide acque le tempeste e le lotte del fondo sino a che tutto fu consumato sovvenne dignitosa forte e soave insieme il figlio suo di tutti i conforti soltanto dopo lasciò che crollassero le diche della sua fortezza e che l'oceano del suo dolore di madre di credente la sommergesse sino a che Dio lo permise onde fosse ancora di più la corredentrice anche questo figlioli miei cari se mi posso permettere è un'altra cosa veramente divina di Maria e cosa da imparare da Maria la Madonna aveva soltanto un pensiero oltre che evidentemente glorificare Dio fare la volontà di Dio eccetera eccetera ma consolare Gesù rincuorare Gesù per quanto possibile far sta bene Gesù alleviargli le pene questo sarebbe un ottimo pensiero e anche un'ottima occupazione anche la Madonna non ci ha potuto fare non solo che non ci ha potuto fare niente l'abbiamo visto in passato ma non doveva opporsi a quello che Gesù doveva vivere in particolare tutte le sofferenze la passione e la morte perché questo serviva alla nostra redenzione allora noi oggi Gesù non ci sta più con la sua natura umana sulla terra certamente però però attenzione c'è la sua chiesa nella quale Gesù vive nella quale Gesù gode per i santi che ci stanno ma soffre anche per tante situazioni sicuramente e noi punto interrogativo come dire abbiamo la delicatezza la sensibilità di consolare Gesù di essere occupati e preoccupati di Gesù o pensiamo sempre a noi questa è una bella riflessione diciamo così la Madonna era questo sotto la croce aveva stampato il sorriso cioè noi dobbiamo pensare cioè di avere dimenticati di se stessi d'accordo quando una persona ama sul serio il suo primo pensiero è di non far soffrire la persona amare quindi amiamo veramente Gesù non lo facciamo soffrire e come soffre Gesù ah Gesù soffre se siete allontani da lui con il peccato lungi da noi per far soffrire ma non solo non basta questo è fargli del bene e sollevare le sofferenze degli altri non non e fare in modo che le percepisca il meno possibile per quanto possibile questa è stata la vita della della Madonna questa deve essere la vita delle anime che vogliono essere devote alla Madonna tutte protese a alleviare le sofferenze di Gesù quando ci sta una cosa del genere noi dovremmo se fossimo veramente molto devoti di Maria non capire più niente c'è da fare un atto per Gesù un atto che gli possa far piacere un atto che lo possa riparare di tante cose brutte pensiamo a quando vediamo tante cose brutte e ce ne stanno tante che vediamo in giro molte delle quali non possiamo farci niente o ben poco chi di noi pensa che quelle cose prima che addolorare noi addolorano Gesù che le vede e che forse ne capisce ancora molto più di noi anzi senza forse la nefandezza l'orrore e il male che producono e chi di noi pensa a consolare Gesù a consolarlo ad alleviarlo guardate che nel corso della come dire della storia ageografica cioè vite scritti dei santi cattolici Gesù infinitamente la stessa devozione al sacro cuore è fondata su questo consolare riparare Gesù di quello che gli combinano gli altri senza evidentemente metterci il carico da undici con quello che combiniamo noi certamente per quanto possibile non almeno volontariamente no dalla cuna alla croce Maria fu tutta per Gesù e Gesù ebbe tutto da Maria riprendo la lettura Maria l'angelo perenne di conforto presso Gesù con presenza reale o spirituale due sole volte dice il vangelo gli angeli sostituirono la madre nel servire e confortare il Cristo e ciò avvenne in due momenti cruciali della vita terrena di Gesù cioè deserto terminato il digiuno ci dicono i vangeli qui sono citati i versetti che gli angeli lo servivano e il Gezzemani Luca 22 43 gli alparve loro un angelo del cielo a confortarlo gli unici due momenti in cui gli angeli hanno preso le funzioni hanno sostituito la Madonna nel servire e confortare Gesù ma questo certamente non dipese prosegue il testo dall'incuria della madre ma per volere di Dio specie nel Gezzemani essendo loro a dei grandi abbandoni per rendere completa e perfetta la passione quindi in momenti in cui a Gesù fu tolto anche una grande consolazione che era appunto quello che le dava la Madonna in quelle due volte riflettano i lettori per la lontananza da Maria di Maria eterna vincitrice di Satana e causa di caudio per tutti e primo fra tutti l'uomo Dio Satana poté tentare Cristo direttamente la prima volta nel deserto stava lontano da Maria e attraverso la tristezza grande come la morte la seconda nel Gezzemani perché in entrambi i casi non si compisse il disegno dell'infinita misericordia a favore dei figli di Adamo ma fu vinto perché Maria sebbene assente per decreto divino orava e sosteneva con l'orare il suo Gesù nella lotta suprema non dobbiamo non dobbiamo dire questo perché Gesù glielo chiede alla Madonna prima di andare via sostienimi col tuo orare quindi lui stesso ha chiesto la preghiera della Madonna e ne ha tratto i benefici e come proseguo ancora la lettura Maria fu veramente la confortatrice e compartecipatrice della missione e passione del figlio veramente il suo cuore immacolato e addolorato notare come questa coppia di attributi viaggia molto spesso insieme immacolato e addolorato da tutte le torture delle incomprensioni calunnie odi tradimenti che ferivano contemporaneamente i cuori santissimi della madre e del figlio quindi il suo cuore immacolato e addolorato spremette il balsamo per medicare ogni ferita della sua creatura fu per lui veramente il vino drogato di cui parla il cantico dei cantici e stando presso la croce come era sempre stata presso la cuna e presso il banco del falegname ai piedi del maestro o al suo seguito sol che potesse eroica nel suo strazio come perfetta nel suo duplice amore di madre e di credente fu ancora sino all'estremo respiro del martire il suo supremo conforto quindi guardate che bella presentazione della madonna madre credente quindi madre discepola oltre che madre discepola la grande confortatrice la grande consolazione perenne di Gesù e la grande compartecipatrice è stata con lui nella sofferenza nei dolori li ha condivisi li ha fatti propri e li ha offerti per noi consumata a sua volta la sua di passione quella della madonna incluenta ma non meno atroce dopo l'ora di non lasciolibbero sfogo al suo dolore smisurato per l'orrendo decidio e lo straziante omicidio del figlio unigenito di Dio e suo perché egli ormai non necessitava più di materna consolazione Maria subì la morte mistica ai piedi della croce mentre Gesù vi subiva la morte fisica come si capisce insomma questa sezione è una sezione una nota quindi sono due grandi notazioni che spiegano approfondiscono quello che già abbiamo visto durante tutta quanta questa ampia presentazione del tema in particolare della unione di Maria Santissima della sua associazione alla vita pubblica e al culmine della vita pubblica che è stata la passione e la morte di Gesù ora iniziamo la sezione F ossia il motore supremo della redenzione cioè l'amore di Cristo e di Maria per noi il motore chi gli ha dato la forza di fare tutto quello che hanno fatto a Gesù e a Maria il segreto della santità il segreto di Gesù il segreto di Maria è l'amore amore con la maiuscola questo Sant'Agostino diceva sempre frase che molte volte viene banalizzata diciamo così proprio banalizzata al termine migliore insomma veramente distrattata ama e fa quel che vuoi quando l'amore è autentico l'amore non si ferma davanti a niente a nessuno io e te possiamo dire se e quanto amiamo Gesù la Madonna se e quanto nel nostro cuore tante volte ho detto questa cosa ma ripetita io senza che nessuno lo sappia senza che nessuno ti vede e senza che nessuno ti sente per questa è una cosa tua davanti a lui o davanti a lei cosa faresti per lui cosa faresti per lei cosa gli daresti cosa gli offriresti cosa gli sacrificheresti la misura dell'amore ha scritto qualcun altro è amare senza misura uno dei motivi per cui Gesù è arrivato fino a quelle a quei vertici infiniti di di dolori offerti per amore era che ci voleva dimostrare quanto si ama dico ma ma tu lo faresti una cosa del genere quindi si è andato come dire a a far fare torture inimmaginabili per dirti per dire a me guarda Leonardo ho fatto pure questo per te guarda che ho fatto pure questo per te ma non per sbatterci in faccia o per infacciarci sarebbe una cosa brutta insomma no no semplicemente molto molto umilmente per mostrarcelo dice guarda che se fosse stato possibile se ci avessi avuto qualche altro millimetro quadro di di parte del corpo dove farmi aprire altri feriti io mi sarei fatto aprire se ci fosse stata una morte più umiliante peggiore più dolorosa della croce io sarei andata su quella ecco perché nessuno nessuno può pensare di non essere amato da Gesù può sentirsi non amato da Gesù perché non ha nessun motivo per fare una cosa di questo genere perché l'amore si dimostra nei fatti allora quest'ultima sezione F appunto di questa parte centrale dell'opera si chiama il motore supremo della redenzione ossia l'amore di Cristo e di Maria per noi vorrei ricordare che noi stiamo qui e parlando stiamo dentro la grande sezione stiamo dentro il grande discorso di Maria nella pienezza del tempo abbiamo visto nella prima sezione e le singolari funzioni di Maria in connessione col mistero di Cristo poi la vera madre dell'uomo Dio e adesso stiamo vedendo la socia di Cristo mediatore fra Dio e gli uomini d'accordo quindi aspettate che torno un attimo alla lettura ok questo è l'ultima parte quindi l'ultima sezione stiamo per aprire dell'associazione di Maria all'opera della redenzione il motore supremo della redenzione è l'amore di Cristo e di Maria per noi ciò che spinse il redentore e la cura di Etnice ad operare con il prezzo di tanti dolori la redenzione del genere umano fu l'amore un amore semplicemente ineffabile sapete che significa etimologicamente il termine ineffabile ineffabili vuol dire che è al di sopra della nostra capacità di comprensione ci supera ci trascende parlando la vergine con il figlio intorno alla straziante passione redentiva ormai imminente concludeva asserendo che il padre del quale facevano amorosamente la volontà gli avrebbe soccorsi con l'ora tremenda e Gesù le risponde questo parlo l'abbiamo già sentito in una delle puntate precedenti si madre l'amore ci soccorrerà e nell'amore redimeremo Gesù si è messo al lato di sua madre e le posa la mano sulla spalla e lei alza il viso a guardarlo il suo bello e sano Gesù destinato ad essere sfigurato dalle torture ucciso con mille ferite e dice nell'amore e nel dolore si è insieme insieme io quando leggo queste cose adesso con la testa che ho adesso penso subito agli atti di fusione nella divina volontà anche se si esce del tema Gesù facciamo tutto insieme fondiamoci a vicenda nella volontà nel desiderio e nell'amore quindi questa grande aspirazione al fare tutto insieme al condividere una vita ecco perché la vita di Maria si vede benissimo anche qui era la vita nella divina volontà cioè qui si tratta di condividere inestricabilmente inestricabilmente una vita proprio sentirsi insieme fare nostra la vita di Gesù fare i nostri problemi di Gesù fare i nostri desideri di Gesù fare i nostri fini di Gesù le intenzioni di Gesù che sono poi le stesse di quelle della Madonna nessuno parla più prosegue la lettura in cerchio intorno ai due protagonisti principali della futura tragedia del Golgotha posto dei discepoli sembrano statue pensose Aurea una fanciulla liberata dalla schiavitù è pietrificata sul suo sgabelletto ma si riscuote per prima e senza alzarsi in ginocchio e senza alzarsi in piedi scusate scivola in ginocchio e si trova perciò proprio contro a Maria le abbraccia le ginocchia e le curva la testa sul grembo dicendo anche per me tutto questo quanto costo e quanto vi amo per ciò che vi costo o madre del mio Dio benedicimi perché io non vi costi senza frutto bene se mi posso permettere di prendere questa questa ragazzina liberata appunto dalla schiavitù questo è un episodio bellissimo dell'opera e le farei un monumento seduta stanta perché queste parole che lei ha detto io spero per me e per tutti voi di poterle fare mie di poterle pronunciare non una non due ma non si sa quante volte durante il tempo della nostra vita del re e a Roma dicono corcore ma proprio corcore decore d'accordo anche per me tutto questo piangendoci sopra cioè la considerazione profonda nella preghiera profonda dei dolori di Gesù e di Maria sofferti per la nostra salvezza è una delle forme più alte di preghiere anche per me tutto questo e tu ci devi pensare io ci devo pensare cioè per me e per te Gesù e la Madonna hanno sofferto tanto tantissimo in tutta la vita altra cosa quanto costo e quanto vi amo per ciò che vi costo sono parole molto belle sono parole molto importanti sono parole che dovremmo fare molto nostre io mi auguro e vi auguro di pregare spesso e col cuore con le parole di questa fanciulla e ancora un madre del mio Dio benedicimi perché io non vi costi senza frutto perché potremmo non avere la sciacura che tanto tanto dolore e tanta sofferenza per noi sia inutile perché se Dio non voglia non mettiamo in salvo la nostra anima Cristo per noi è morto in vano e la Madonna per noi è sofferta in vano e infatti quel sant'uomo oltre che il gran teologo che era Roschini chiude questo capitolo dicendo è quanto ogni redento dovrebbe ripetere dinanzi agli strazi ineffabili del redentore e della corredentrice sostenuti per amore nostro quanto costo e quanto vi amo per ciò che vi costo che io non vi costi senza frutto ossia in vano la vita di Gesù dice la Madonna ed anche la mia furono sempre guidate e mosse dall'amore conclusione non apparteniamo più a noi stessi come ha detto San Paolo ma a Gesù e Maria i quali ci hanno riscattati a caro prezzo con i loro ineffabili dolori meritori e soddisfatori bene detto questo introduciamo una nuova sezione quindi è finita quella dedicata alle sofferenze corredentrici di Maria adesso c'è un altro capitolo perché la Madonna è anche dispensatrice di tutte quante le grazie dispensatrice delle grazie del Signore la invoca San Luigi Maria Monforti in una delle invocazioni della coroncina delle 12 stelle tesauraria tesauraria graziarum domini è il latino tesoriera dispensatrice delle grazie del Signore è la traduzione italiana quindi adesso in questa nuova sezione vedremo in che senso la Madonna è si può e si deve definire dispensatrice di tutte le grazie riprendo la lettura oltre che associata indissolubilmente al redentore quale corredentrice nell'operare la redenzione ossia nell'acquisto di tutte le grazie della redenzione ossia la prima fase della mediazione Maria negli iscritti valto ortiani appare anche indissolubilmente associata a Cristo nell'applicare la redenzione ai singoli individui del genere umano ossia nella distribuzione di tutte le grazie della redenzione la seconda fase della mediazione a tutti gli uomini si tratta perciò di una universalità non solo soggettiva cioè estesa a tutti gli uomini ma anche oggettiva cioè estesa a tutte le grazie questi passaggi che fa il roschini fra poco fa proprio comprendere insomma io lo comprendo abbastanza bene come questo testo sia da lui concepito come un manuale di mariologia perché i concetti che ha appena spiegato sono concetti teologici mariologici proprio in senso stretto adesso veramente per favorire la comprensione ci dico due parole ma lui pone delle formulazioni delle asserzioni mariologiche classiche evidentemente supportate dal peso insomma di una dottrina abbastanza consistente e dopodiché non fa altro che mostrare come queste cose ci siano negli scritti di Maria Valtorta in quella che lui definisce la mariologia viva allora l'opera della nostra salvezza questa teologia classica a mio avviso da ritenere e da mantenere al cento per cento sia per la chiarezza sia per la fondatezza e per il rigore dottrinale l'opera l'opera della nostra salvezza si compie in due momenti c'è un primo momento cioè noi abbiamo dovuto essere riconciliati con il padre noi eravamo nemici di Dio quindi ci doveva essere qualcuno che facesse la pace tra noi e Dio e spiasse le colpe e ci mettesse in condizione di tornare nella divina amicizia pagando i nostri debiti offrendo il prezzo della nostra retenzione questa è la prima fase e questa l'hanno fatta Gesù e Maria durante la vita terrena come offrendo e soffrendo per noi punto a quest'opera la Madonna è stata associata in maniera del tutto singolare unica e irripetibile poi però c'è la seconda fase cioè questa grazia recuperata riacquistata dal Redentore affiancato dalla sua collaboratrice quindi è già oggettivamente a disposizione di tutti deve arrivare concretamente agli uomini di ogni luogo e di ogni tempo certo questo ci arriva attraverso la Chiesa d'accordo attraverso la Chiesa e i sacramenti che amministra diciamo così a livello istituzionale ma a livello diciamo così spirituale ci arriva attraverso la mediazione di Maria che è appunto la dispensatrice di tutte le grazie e questa seconda quindi abbiamo l'acquisto e la distribuzione della grazia è come se io intanto la compro e poi però la devo distribuire ai beneficiari questo la Madonna lo fa nei confronti di tutti gli uomini quindi è madre e mediatrice universale quindi di tutti ma lo fa anche nei confronti di tutte le grazie quindi è mediatrice universale di tutti e di tutte le grazie non c'è grazia questa è la dottrina comune nei mariologi che non arrivi a noi attraverso la mediazione e l'intercessione di Maria e non c'è grazia nessun tipo di grazia che possa arrivare ad essere umano che la Madonna non l'abbia posseduta prima e di più di qualunque altro essere umano disse Gesù alla peggente leggiamo quest'ultimo paragrafetto e poi ci fermiamo che il tempo è passato porta di Dio da essa sgorga fede speranza carità da essa temperanza giustizia fortezza e prudenza da essa grazia e grazie da essa salute da essa vi viene il Dio fatto carne questi sono i quaderni del 44 le 2 agosto oh madre mia per il pontefice e per l'ultimo dei credenti sei tu la santa piscide in cui l'eucharistia tende di essere data a chi crede tutte le grazie passano attraverso il tuo corpo inviolato e attraverso il tuo cuore immacolato tutte sono parole di Gesù e misteri e verità e sacramenti e doni vengono conosciuti con vera sapienza e gustati con conoscenza e frutto solo da quelli che sanno chiederli a te davanti a te Gesù Gesù dice una cosa molto grande e questo vale per i preti per i teologi per i vescovi misteri e verità sacramenti e doni vengono conosciuti con vera sapienza vera acquista in corsivo e gustati con conoscenza e frutto solo solo è da quelli che sanno chiederli a te e davanti a te sono cose da chiedere alla madonna queste qui tu schermo fra il sole e le anime e fra le anime è Dio per cui la divinità può essere contemplata dall'uomo e l'umanità essere rappresentata dal perfetto questa è questa cosa che appena ha detto Gesù è uno dei caposaldi fondamentali di tutta quanta la teologia e spiritualità mariana di San Luigi Maria Monfort la cui festa liturgica è stata l'altro ieri cioè dice Gesù lui dice Gesù è certamente il nostro fratello il nostro amico per carità ma Gesù è sempre il sole divino cioè Gesù non è soltanto un uomo come me Gesù è un uomo ma è anche Dio d'accordo e non dobbiamo mai dimenticarlo anche se spesso oggi ce ne dimentichiamo quindi a volte la luce del sole abbaglia e non può non abbagliare perché il sole è sole d'accordo Dio sì è nostro padre è nostro vicino è nostro fratello si è fatto nostro fratello nostro intimo pieno di misericordia ma non cessa di essere Dio non cessa di essere maesta infinita non cessa di essere il signore degli eserciti non cessa di essere il santissimo il tre volte santo d'accordo quindi invece la Madonna è come noi indiata completamente piena di grazia ma è come noi e quindi è lo schermo d'accordo e la Madonna non ti farà mai come dire venire quel timore che ti trovi davanti alla maestà di Dio insomma che magari tutto cioè noi abbiamo anche tanti tanti peccati da farci perdonare tutti eh cioè forse passati presenti cioè d'accordo a volte la maestà di Dio può pesare un po' anche sulla nostra coscienza con la Madonna questo non succede mai mai è sempre piena di grazia di amore di misericordia verso tutti quindi è uno schermo tra il sole e le anime per cui la divinità può essere contemplata dall'uomo riflessa in Maria e l'umanità la nostra da lei non da noi che non possiamo giustamente presentarci davanti all'altissimo non io almeno se qualcuno pensa di farlo Dio lo benedetto che è beato lui ma l'umanità può essere presentata attraverso Maria al perfetto perché perché lei è perfettissima ed è una di noi tu madre che hai dato Dio all'uomo e dai l'uomo a Dio istruendolo col tuo sorriso e il tuo amore se mi posso permettere un altro un tratto caratteristico delle anime mariane di coloro che vogliono avere stili mariani la Madonna istruisce col sorriso e con l'amore non ha altre modalità ci sono altre modalità possibili in teoria per carità quante ne vogliamo ma quelle quelle della Madonna sono il sorriso e l'amore per cui le anime che si dicono mariane non possono e non devono se mi si permette di usare questi termini uscire da questa regola le istruzioni le istruzioni si danno col sorriso e con l'amore come fa lei e se qualcuno non le vuole ricevere col sorriso e con l'amore ci mettiamo la coda tra le gambe e ce ne andiamo d'accordo? da qualche altra parte senza nessun problema mio piccolo Giovanni continua Gesù lei chiamava così Maria Valtorta lo chiamava il piccolo Giovanni vieni sempre a me passando per Maria è il segreto dei santi il segreto dei santi un delle opere di San Luigi di Maria Monfort è il segreto di Maria no? raccomando vivamente la lettura di questo best seller della spiritualità mariana è il segreto dei santi è la porta chiusa che non si aprì né si aprirà mai per violenza umana la porta santa per cui solo Dio può passare non si sfonda la porta della Madonna ma si apre al tocco di amore di un figlio di Dio si apre benigna la Madonna è tutta accoglienza nei confronti di chi le si rivolge e guardate che chi non si rivolge alla Madonna anche se non lo sa o non lo crede ma tanto così è sappia di essere sotto istigazione diretta del diavolo cento per cento e tutte quante le forme di minimalismo di minimizzazione Mariano così anche le forme contrarie di chi va sparando stupidaggini esorbitanti che fa la Madonna più grande di quello che è facendo piangere lei in primis e andando a dire degli spropositi ma generalmente i minimalismi mariani sono sempre fomentati dal nemico di Dio perché la Madonna non sta altro che a fare che a aspettarci di accoglierci per farci una montagna di beni e i beni che la Madonna vuole farci sono tanti sono efficaci sono quindi l'atteggiamento di chi la guarda con un pochino di sufficienza pure di dire ah sì ma che me ne importa della Madonna tanto io c'ho Gesù Cristo non è un buon atteggiamento tanto più e la si apre e vi accoglie per insegnarvi la sapienza e l'amore tenendovi tra le sue braccia di madre chi si affida a Maria chi chiede aiuto a Maria imparerà da Maria la sapienza quindi a ragionare in modo divino significa la la sapienza vedere le cose con gli occhi di Dio non con i nostri piccoli occhi umani e e l'amore la Madonna era tutta amore sono bella perché amo amate e diventerete tutti belli come me ci lasciamo con queste parole appuntamento amici carissimi se Dio vuole alla prossima settimana dove continueremo questo discorso della distribuzione di Maria di Spazio di Tutte le Grazie che a sua volta sarà diviso in alcune sottosezioni con dei brani stupendi che ci attendono per illuminarci la mia benedizione sia su chi ha seguito la diretta sia su chi ascolterà questa fraterna condivisione indifferita alla prossima ave Maria che ha seguito